ariete mai arrendersi mai fermarsi neanche oggi che avresti solo voglia di dormire stare in pigiama tutto il giorno o quasi e non fare nulla toro sabato in amore hai deciso di dedicarti completamente alle persone che ami senza altri pensieri nettuno difenderà il tuo bisogno di pace gemelli venere non ti rende proprio la persona più felice del mondo in amore ma allo stesso tempo ti offre l'opportunità di amare oggi chi ha bisogno di te cancro vai avanti nonostante la stanchezza oggi in tanti ti cercheranno e vorranno coinvolgerti in cose da fare e appuntamenti leone forse finirà una storia d'amore o forse sarà solo l'ennesima pesante litigata eppure il campanello suonerà e chi ti vuole bene davvero verrà a cercarti vergine la benevolenza di venere ti garantisce un sabato piacevole senza programmi particolari se non quello di non farti togliere il sorriso da nessuno bilancia finalmente un po di riposo qualsiasi impegno tu possa avere cerca di rimandarlo ti aspetta una settimana intensa e hai bisogno di ricaricare le pime scorpione prenditi cura di un amico oggi ascoltarlo e stargli vicino aiuterà anche te e darà un senso profondo a quello che sarebbe stato un sabato come tanti sagittario anche se fisicamente non andrai al lavoro forse il lavoro l'hai portato a casa i tuoi troppi impegni saranno motivo di scontro con il partner capricorno e quale giorno migliore se non oggi per realizzare che urge una presa di posizione per ridare tonicità al corpo e magari una dieta acquario forse ti guarderai allo specchio e ti chiederai se sei felice anche se non vuoi ammetterlo se sei singolo scoprirai di non volerlo essere pesci forse stai pensando ad un nuovo progetto ad un'idea da realizzare e nonostante i timori giove ti sprona a lavorarci anche oggi